Con Commercio Pescara e Fipe proseguono la loro sensibilizzazione sul momento che stanno attraversando i pubblici esercizi anche nella nostra regione, nella città di Pescara in particolare, momento difficile che prosegue e che soprattutto si avverte nel periodo di Natale, Padovano. Si avverte in questo periodo particolarmente un periodo dove l'azienda del food, mi riferisco a tutta la filiera della Fipe, bar, ristoranti, alberghi, discoteche, gastronomia eccetera, era un momento fondamentale perché chi doveva preparare i cenoni, chi organizzava il Natale all'interno delle infrastrutture e noi siamo rimasti, queste categorie sono rimaste a piedi. In questo momento particolare, francamente, non si siamo riusciti a capire i motivi per cui una filiera di questo settore si è dovuta arrestare le presenze all'interno delle proprie attività. A soffrire sono soprattutto i ristoranti, Padovano, che ha aperto, facciamo un esempio, un'attività un anno fa, oggi, ha ricevuto i ristori? Allora, questo è un problema che noi abbiamo posto ai nostri parlamentari a livello nazionale e forse loro non hanno ascoltato bene le nostre urla, che poi li vogliamo definire urla, li vogliamo definire suggerimenti. Un'attività, bar, ristorante, discoteca, che ha aperto l'attività il 1 gennaio 2020 ed è entrata in pandemia dall'8 marzo, i ristori non sono andati a quelle attività aperte il 2020. Perché? Perché nel decreto, nel DPCM, sta scritto che possono beneficiare di un ristoro in base al fatturato del 2019. Questo è un problema, è un problema vero, finché i primi due mesi dell'8 marzo al 5 giugno si poteva anche superare, ma adesso perde l'ulteriore ristoro. Io credo che sia un'ingiustizia nei confronti di quelle attività che hanno avuto il coraggio nel 2020 di aprire l'attività. Io credo che su questo momento, nel decreto mille prologue, va inserito questo emendamento che consente a tutte le attività aperte dal 2020, perché non hanno uno storico del fatturato del 2019, di beneficiare attraverso il proprio fatturato. Può prendere riferimento a un fatturato nel mese di maggio-giugno e da lì, ma non è padovano la ConfCommercio che deve dire come. Loro devono mettere in piedi un'iniziativa parlamentare che risolva questo problema.